Sui monti fioccano la neve sabici, nanoti scriverò rosi, nanoti... Primo CD del Coroana di Domodossola, un CD nato in tempo di pandemia che si è sviluppato negli ultimi due anni. Sì, è stato un successo soprattutto motivazionale riuscire a gestire un gruppo così eterogeneo come quello di un coro che ha elementi dai 16 agli 80 ai passani e ad essere riusciti a farlo in sicurezza è stato certamente ancora più bello. Il CD quanti brani? Ha 13 tracce e sono i grandi classici del mondo alpino ma non solo, c'è la montanara, altri brani che sono del mondo popolare e che a volte fanno vedere la guerra dal punto di vista delle donne, della famiglia rimasta a casa oppure della difficoltà dell'alpino di essere sul fronte. E quindi come scelta io evito sempre brani che inneggiano alla guerra in sé ma il mondo degli alpini ha al suo interno delle musiche incredibili, armonizzate da grandi autori, che hanno dei testi che fanno vedere come l'alpino facesse fatica a fare la guerra e tante volte la ripudiasse nonostante fosse un suo dovere. Un gruppo di una trentina di persone? Sì, siamo in questo momento 25-26 perché la pandemia ha cambiato un po' le dinamiche del coro ma io penso che riusciremo ad allargare il nostro organico. Mi piace ricordare che il coro è aperto e proviamo tutti i sabati ma soprattutto cerchiamo sempre voci, cantori già formati o anche persone che si vogliono accostare. Abbiamo anche la possibilità per questo concerto di avere delle magliette create dall'artista Paolo Stefanelli che è alpino e nostro amico e che ha un po' preso il ruolo dell'angelo del Levero nell'avvicinarsi al mondo della sezione degli alpini di Domodossola. Per cui queste magliette con disegni originali saranno disponibili e avranno la scritta ufficiale Amici del Coroana di Domodossola. Lei oggi ha detto un sogno che si realizza, perché? Ma perché veramente undici anni fa avevamo messo in piedi quasi per commessa questo coro e poi con i sacrifici un po' di tutti, piano piano, 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 siamo arrivati a questo risultato qua. Ci abbiamo creduto tutti insieme e quindi il coro eccolo qua. Io tesoro la vita del soldato.